Raul e Martina, addio relazione. Il falò di confronto a Temptation Island 2024, andato in onda giovedì 25 luglio, ha decretato la fine della loro relazione. Non lo amo come prima. Ho visto le altre ragazze, quanto sentivano la mancanza dei loro fidanzati e per me non è stato così. Io stavo bene anche da sola nel villaggio, ha spiegato lei a Filippo Bisciglia e al pubblico di Canale 5. «Non mi va più di aspettare che lui cambi, non provo le stesse cose di prima. Se voglio uscire con lui da qui? No, voglio uscire da sola», ha concluso Martina nonostante le lacrime di Raul, che per tutta la durata del programma ha sofferto e non poco il suo avvicinamento al single Carlo. Ma cosa è successo dopo la registrazione della finale di Temptation Island? Dalle indiscrezioni sappiamo che Raul e Martina non sono tornati insieme e, al contrario, hanno entrambi voltato pagina. Pare infatti che i due stiano vedendo altre persone. Secondo Dejanira Marzano Martina ha visto due o tre volte il tentatore Carlo, ma adesso ha un'altra relazione, mentre Raul sta vedendo la tentatrice Nicole. Dopo il falò di confronto? Non stanno più insieme Raul e Martina. Pare che lei con Carlo si sia vista due volte dopo il programma, ma che adesso si stia frequentando con un campano benestante. Nuova love story? Una mia follower ha aggiunto, Martina si è vista più volte e si sente con uno che conosco. Sicuro al 100%. Si seguono pure sui social adesso. Non so se è uscita con Carlo o meno, però mi hanno detto che si sono visti due o tre volte a distanza di tempo. Anche Alessandro Rossica ha confermato le nuove frequentazioni e aggiunto anche dei dettagli. Martina è rimasta con il tentatore e lui dopo due giorni stava con Nicole. L'amore è un'altra cosa. Raul si sta divertendo parecchio. Mi dicono che è molto affiatato con la ragazza che ha adesso, si divertono molto, capitemi, ma fanno bene e sono giovani e sono all'inizio di una frequentazione. Però vacci piano caro Raul che non hai più 20 anni.